Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Space Station Tycoon. Questa è una preview e come di consueto io non ho mai aperto e provate il gioco. Lo proveremo insieme e vediamo. Il che si presenta abbastanza bene. Io adoro i giochi spaziali. Allora, settaggi. Abbiamo abbassato la musica. La abbassiamo un altro po'. Gameplay, Ultra, V-Sync, così abilitato, così disabilitato, Motion Blare, Anti-Aliasing. Lasciamoli tutto così. Come possiamo vedere non c'è la lingua in italiano e quindi ci accontentiamo della lingua in inglese. Alpha 03. Partiamo. Oh là là. Allora, starting money. 20.000. Ok. Lasciamo tutto di default. Questo cosa vuol dire? Ah, è il nostro colore. Gialla. Mi piace gialla. Le luci le facciamo. No. Questo colore qua. Logo. Vediamo un attimo. Questo mi ricorda tanto Transformer. Dunque. Ce ne sono di diversi colori, diversi aspetti, vorrei dire. Però non so perché, ma questo mi piace molto di più. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Un esagono. Ok. Station name. Broccolo. Partiamo. Ok. Non ho la più pallida di cosa sia. VSD sono i comandi. Questo, la rotellina è il zoom. Tasto destro, si muove la... Uh, 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 attenzione. Roba, roba. Build, roba. Ok. Inbox. Hector O'Donnell, bla bla bla. Ce la leggeremo con calma. Una volta. C'è un po' di, eh, come dire, eh, 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 parallasse quella cosa lì, c'è? Che si deformano un po', però vediamo. Ok. E cosa dovrei fare io? Build. Ok. Non c'è un tutorial, quindi... Vediamo. Flow Rudeau. Oh, no, 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 no. Che spanni. Questi sono solar panel. Ok. Voglio costruire... Dove li posso mettere, i solar panel? Qua. No. Eh, welcome, welcome, non si... Espanio Station for 500 credit. Sì. Ma, ma sta cosa mi piace. Ok. Lo, lo espanza. Però non... Non capisco. Questo cos'è? Docking Bay? Oh, 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 attenzione. Ah, ma è quella. No, è questa. È la Docking Bay? La voglio... La mettiamola qua. Quindi da qua a Terno. Ok. Sì, non c'è assolutamente niente. Non so niente. Quindi scanner. Eh, lo mettiamo qui. E la torrette... La torretta... Suppongo che debba ampliare ancora. Sì. E metterla qua. Ci difendiamo. In qualche modo. Ampliamo anche qua. E credo che... Il solar... Esatto. Il solar panel vada qua. A CIMI mental lockhead. Poi, spandiamo anche qua. Ci serve un po' di corrente. 1, 2... E questo qua cosa c'è? Questo è diverso, no? È uguale. E ci mettiamo anche un pannello solare qua. Quindi abbiamo corrente... 55, 90. Non so se vada bene oppure no. Come si fa? Space... No, devo cliccare. Come si fa a partire? 1, 2, 3... No. No. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Space... No, non gli piace lo space. Va bene. Build. Non build. Research. Difesa ed utility. Ah, posso ricercare. Tipo questo. Research point. Non c'ho punti ricerca. Inventario. Non c'ho nulla. Benissimo. Andiamo. Sì, però c'è un problema. Finanza, employee, marketing. Tanta roba. La sto scorrendo velocemente. Il problema è che non so come si faccia a fare play. Ah, ecco, è partito. Ok. Questi non so cosa sono. Ci sono navicelle spaziali che camminano. Questo è John Smith. No place for me here. Il problema è che dovrei costruire qualcos'altro. Perché io ho fatto quello, ma... Eh, manca il commercio. Caffè. Ah, facciamo l'autogrill praticamente. Ma mi piace sta cosa. Caffè. Ma mi servono anche delle persone, credo. Sì, credo che abbiamo bisogno delle persone. Utility, il board, research, laboratory... No, non qua. Staff. Eh, ci serve lo staff. Allora, lo staff lo mettiamo vicino alla gaffettiera. Cos'è successo? Non ho soldi. Mi sa che ho fatto un po' troppo. Scusa, questo lo posso vendere? Oddio. Mi sa che ho comprato troppa roba. Come faccio a fare soldi? Excelente. Vabbè, andiamo qua e chiediamo un prestito, no? Si può? Research. No, non è qua. Scusate, ho bisogno di un prestito. Marketing. Ah, start. Cosa vuol dire? Marketing strategy. Ok. Total budget 500. Va bene. Impiegati. Ah, eccoli qua gli impiegati. Sì. Electricity, family appeal, research speed, yacht appeal. Che ne so io. Prendi questo, questo. Ma sì, io li assumo tutti. Ma che me frega a me. Ora ci sono. Questo è start. La financia. Iron Trust. Ah, possiamo chiedere un prestito. Ottimo. Andiamo a vedere se... Prendiamo play. E il play intanto non playa. Non so perché, ma... Oh, ecco. Facciamo così. Ogni tanto non playa. Mi dispiace dirlo. Ed è una cosa molto brutta. Sì, ho speso 500 dollari. Però ogni tanto... Ah, forse devo uscire dalla build. Aspetta. Ah, quando sei in build in auto... Ok. Fermi tutti. Fermi tutti. I got it. Ho caputo. Allora, praticamente, quando siamo in build, si mette in pausa in automatico. Il che non è tanto carino, eh. Ora... Che è sta roba? Ah, ecco. Fermi tutti. Pausa. Staff. Mettigli questo. Ok. Poi... Così abbiamo uno staff. Poi... Cos'è due... Ah, qua ci puoi mettere un altro staff. Family appeal, family appeal. Questo è assegnato. Research. Per adesso io non li capisco, quindi... Va bene. Va bene così. Play. Ok. 1, 2, 3. Aumenta la velocità. Vediamo un po' cosa... Oh, 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 oh. Prima la micella atterrata. Ok. Prima la micella atterrata. Quindi... Ci abbiamo 1,044. Oh, oh, oh. Caffettoni, caffettoni. Tanti caffettoni. Grande. Fly safe. Ma è carino però la... La station. Oh, oh, oh. Meno 200. Dacci soldi però. Facciamo troppo pochi soldi, signori. Electricity 80 di 90. Electricity. Electricity è bellissimo. Comunque sì, abbiamo la turret. Possiamo upgradare le torrette. Figo, figo. Questa cosa qua. E... Questo chi è? Ma che... Ci serve un'altra cosa di atterraggio? Quanto costava la cosa di atterraggio? Una di queste ci serve. C'è un tecnico. Quanto ci costa l'atterraggio docking? 2000. Allora a questo punto andremo qui. Finance e... Take a loan. No, non ce lo fa prendere. I don't trust. Basic. Take a loan. Fermi tutti. Build. Dunque. Docky Station. Tanti ci abbiamo un sacco di pubazzelli. Che possiamo... Ma io dove l'ho messa la docky station? Ah, va bene, va bene, va bene. Mettiamo un'altra qua. E un'altra qua. Perfetto. Le usciamo dalla build. E qui li mettiamo. Dato che ce li abbiamo. Assegniamo questo. E qui. Assegniamo questo. Ok, ci manca l'ultimo. Che non ce l'abbiamo. Andiamo a reclutare. Dove si reclutava? Employee. Recruit. E vediamo le applicanze per questi. Assumiamo questo. Dov'è che lo dovrei mettere? Qua. C'è un problema. Ci manca la corrente elettrica. Perché due? Vabbè. Vabbè. Ne ho messi due. Cosa vuol dire che ci manca la corrente elettrica così? Vuol dire che ogni pezzo ha bisogno della corrente elettrica? No. Vabbè. Non lo posso fare. Infatti. Non c'ho soldi. La mia vita si svolge sempre attorno ai soldi. Ok. Build. Pannello solare. Quanto costa? 1250. Non ce la facciamo, signori. Andiamo sotto potenza. Uno. Vediamo. Vediamo se riusciamo a raccogliere qualche soldino. Forse ne ho fatti troppo. Però perché non so come si vendono. Ah. Ripay destroy. Require 15 di energia. Disabilitiamo. Disabilitiamo. Ok. E solo uno ne può. Ma quanta corrente? Dov'è la torretta? Qua. Disabilità. Ottimo. Così abbiamo corrente per entrambi. E forse... Sì. 80 di 90. Perfetto. Possiamo fare atterrare le persone. Ripay. Perfetto. Vai. Atterrato. Ottimo. Trading. Oh. Addirittura c'è il trading. E per adesso non c'ho soldi. Caro ciccio. E non c'ho soldi. E vi posso dare solamente un po' di caffè. Questo vende caffè. Cereali. E... Che on giongio l'encio. Ottimo. Che on giongio l'encio ci sta. Ricerca. Non c'ho punti ricerca. Quindi. Inventario. Non c'ho nulla. Research è quello di prima. Inbox è questo. Cancelliamola. Build. Commercial. Hygiene. Facility. 7500. Staff quarter. Billboard. Research laboratori. Eccolo qua. Dannazione. Va bene. Un po' più. Di speed. E ci abbiamo solo questo. Il problema. È che noi. Queste sono le persone che ci abbiamo. E questi sono gli impiegati. 6 di 5. Quindi abbiamo un impiegato che non fa nulla. Attenzione. Eh no. Certo. Non fa nulla. Perché. È in banca. È prendiamolo. Che ti posso dire? Fermi tutti. È 7500. Posso fare un altro caffè? Oppure? Dagli un po' di potenza alla base e abilitiamo l'altra. Sono in bancarotta. Ma di bestia. Cioè se io faccio così. Questo quanto mi costa? 1000. Ce la faccio. No. Sì ce la faccio. Vai. Ottimo. Quindi abbiamo 120. Quindi adesso io posso abilitare questa abilità. Vai. Vediamo. 47 visitatori. Sì. Ok. Lui sta vendendo caffè a nastro praticamente. Fermi tutti. Build. No. 7500. 3750. Non ce la faccio. Ma c'è tanta. Oh oh oh. Ma c'è tanta roba qua. Quindi. Piano 2 addirittura. Billboard. Riscerce 2005. Però. Che riserco. Che riserco. Che riserco. Che riserco. Ok. Vediamo un po'. Andiamo in speed 2. Fermi tutti. Fermi tutti. 3500. Forse ce la facciamo. E che andiamo troppo sotto. Quindi lascerei questi 2000 nel tempo che noi. Mannaggia la tua station. Nel tempo. Via Pallianza. Visitatori. Zero. Dobbiamo dare un sacco di soldi. Allora. Questo menu qua è un po'. Da sistemare. Allora. Scanner. Meno 100. 160. Tutti soldi questi qua sono. Ok. Docking Bay. 1, 2, and 3, 4. E poi abbiamo questo. Vabbè. Questi sono i soldi. E stanno diminuendo. Sì. Stiamo andando di nuovo in bancarotta. Più caffè. Più caffè. Bravo. Che cos'è? New Reputation Level. Wow. What? Billboard. Hangar. Large Dock. Particle Reactor. Ah, ci hanno dato i soldi. Fermi tutti. Laboratorio. Sei indeciso per fare laboratorio. Cos'è sta roba? L'hangar è fico. L'hangar è fico. Multiple. Spare ship to park. Dead ship. Ah, quindi togliamo le dock station. Mettiamo queste. Ci entrano tutti. Oppure Large Dock. Fico. Poi ci sono le difese. Che ho notato che. Ce ne frega niente. Tipo scanner e cose. Potremmo anche per adesso toglierli. Eeeh. Questo vuole 40. Però ci arriviamo. Ci arriviamo. Mettiamolo. Perché? Ah, no. C'è 3.600. 3.600. 3.600. No. Proviamo. Andiamo se aria. 3.750 dobbiamo arrivare. Voglio costruire. Fermi tutti. Fermi tutti. Build. 3.750. costruiamo questo contenuore. 25. Vai. Ci stiamo. Dentro. Perché? Abbiamo anche questo. No. Non mi dire che non c'è corrente. No. C'è la corrente. Che dici? Senti. Lo sai che ti dico? Disabita lo scanner. Che non serve a niente. Vai. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. C'è, 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 c'è. Perché non c'è? Sì. 110. 120. Perché dici che non c'è la corrente? Non lo capisco. Vabbè. Sarà buggato. Che ne so. Che cosa vuol dire? Come impiegate rivolta? Eh vabbè. Dai. Ti do l'aumento di stipendio. Ho capito. Cominciano a rompere le scatole. Sì qua. Trade. Mi dispiace. Per adesso non è niente. È un alieno. Ok. Chiuditi. Ma la torretta se è disabitata consuma? Vediamo. Distruggi. Non mi frega niente. Ma tornando i soldi? No. Distruggi. Lasciamo via le torrette. Se impiegate. Che cosa vuole? Ancora. E allora? Tutti i soldi. Allora. Tu disabilita. E abita. Niente. Sei rimasto così. Vabbè. È andata così. Ma fa solo questo però. Aspetta un attimo. Ok. Mo ce l'ha, Gorende? Vai. Ripara. Disabilita. Abita. Adesso ce l'ha. Quindi dovrebbe incominciare a vendere anche questo. Oppure è sempre la stessa cosa. Sì, sì. Vendono tutte e due e vende solo uno. Sì, tutte e due. Ottimo. Siamo diventati un centro commerciale che distribuiamo caffè. Qua atterrano come pazzi. Peccato che non si possa zoomare di più. E comunque il zoom out è quello. Ah, eh? Ho appena fatto... Cosa vuol dire che ci posso atterrare? Eh, ci hai rotto le scatole però. Che vuoi sempre soldi. Questo qua cos'è? Boh. Questa sarà la terra, tipo. Zelen. Sì. Eh... Credo che... Si possa fare qualcosa con questi pianeti. Credo. Il problema è che io sono proprio in manca rotta. Questo chi è? Vabbè, sicurezza. Sì, vabbè. Employee 6 di 5. Che vuole questo? Va bene. Però sta diventando che ogni due secondi questi qua vogliono soldi. Eh, eh. Non va bene. Upgrade. Dobbiamo fare il centro di ricerca. Quanto... Quanto voleva il centro di ricerca? 2005. Ce la possiamo fare? E lo andiamo a mettere proprio qua. Ma quanto vuole di corrente? 20. Eh, ce la facciamo. Ricerca e modulo... Ricerca degli alieni. La conoscenza. Eh, popporoppe. Allora. Noi ce l'abbiamo un... Dov'è? Ma noi ce l'avevamo uno libero. Ci dice 6 di 5. 4 di 5. Dunque. Sì. Vabbè. Mi fate... Mi fate lavorare? Allora. Eh... Recruit. Eh, l'ho visto già. Eh, vabbè, va. Overview. Employee. Sì. Vabbè. Questo. E questo. Fermi tutti. Allora, questo. Rimettiamo quello che... E aspetta. Ricerca più velocemente. Poi. No, tu non mi interessi. Oh, no. Facciamo così. Dovrebbe esserci un altro che ricerca velocemente. Eccolo qua. Perfetto. Ma no, era già lui. Allora c'è l'altro. Quello... E per ogni due secondi vogliono soldi questi qua. Eh, eh, eh. Assegna. Ok. Adesso chi manca? Qua. Cianja. E ci metti questo. 1.200 non ci li ho, i 1.250. Che è successo? Ok. Trade. Eh, eh. Sarebbe bello tradare. Che cos'è sta roba? Ok. Eh, ma qua continuano a rompere le scatole con i soldi. E mo' questa è senza potenza. Quindi vogliamo ricercare cosa? Questo. Upgrad per 250. Ottimo. Eh, pian pianino riusciremo a ripagarci il debito. E' questa cosa qua che... Che dà un po' fastidio. Che ogni due minuti spunta questo qua. Ah, questi sono i pianeti vicini. Cosa vuol dire start campagna? Scopriremo solo vivendo. Cioè, ovvero? Durata? Cosa vuol dire? Eh, eh, eh. Sono andato in bancarotta. Vabbè, ci siamo fatti un'idea. E' carino, non è male. E' ancora un'alpha. Early Access va benissimo. Anzi, direi che c'è già un bel po' di contenuto. Naturalmente è una preview. Non lascio nessun giudizio finale. Lascio a voi la scelta di prendere, giocare questo gioco, guardarlo, oppure no. E vi lascio il link in descrizione. Se vi va, potete lasciare un like o un commento. E, come sempre, le iscrizioni sono ben accette per supportare questo canale. Come sempre, siete medici. Alla prossima. Bye bye!